Non sono serviti 40 anni alla mafia che lo uccide la sera del 5 gennaio 1984 nei pressi del Teatro Stabile di Catania per spegnere la voce di Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, pittore, padre di famiglia. Assassinato perché senza paura raccontava il male della sua terra amatissima, denunciava le mani sporche delle organizzazioni malavitose, faceva nomi e cognomi perché doveva dare risposta a una domanda che lo assillava. A cosa serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare? Cinque colpi di pistola alla testa, che probabilmente non gli danno neanche il tempo di realizzare cosa stesse succedendo, non hanno minimamente scalfito la passione per la sua gente e per la Sicilia. 40 anni dopo, un altro figlio di quella stessa isola, il presidente Mattarella, rende omaggio all'impegno e al sacrificio di Giuseppe Fava e ricorda il suo valore di uomo e professionista, che si ribella al dominio della violenza e della sopraffazione, che fa del giornalismo uno strumento di irrinunciabile libertà, perché, aggiunge il capo dello Stato, pietra angolare di una società sana e democratica, sono l'indipendenza dell'informazione e la salvaguardia del suo pluralismo. 40 anni dopo, restano vivi i volti che Fava aveva ritratto nei suoi quadri, istantanee della sua terra che non ha mai smesso di sognare, bellissima e ripulita, da quei mafiosi e da quella mentalità avida, che si nutre di silenzi, sete di potere e violenza.